Siamo davanti al Valentino per consegnare qualcosa di particolare. Siamo arrivati a vedere la vicenda. Siamo arrivati a vedere la vicenda. Grazie a voi per la buona pizza. Siamo arrivati a vedere la vicenda. Siamo arrivati a vedere la vicenda. Siamo arrivati a vedere la vicenda. C'è qualcosa... Siamo arrivati a vedere la vicenda. Siamo arrivati a vedere la vicenda. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.